L'ultima, tu hai fatto l'avversario, è stato proprio poi il Brescia-Golani? Penso di sì. Siamo in 12 anni. 12 anni. Un po' meglio oggi? Lì in 9. Noi in quella volta là venivamo da un anno, non so se vi ricordate, fallimento, rischio fallimento, stipendi, quindi le ultime dieci partite credo che facemmo un punto, una roba del genere, però oggi meglio, la squadra bene, dispiace, non tanto per il pareggio che avevamo opportunità di chiuderla, ma ha avuto anche opportunità al Brescia, perché abbiamo preso i gol in una situazione un po' strana, quindi dispiace più che altro per quello, però. Cos'è che è successo? Eh nulla, che io l'ho lasciata passare, perché io l'ho lasciata andare, che andava fuori, Marcello, sì Marcello, Nicola non si è accorto di essere da solo, poi dopo io la potevo prendere in realtà poi, e lui l'aveva presa di piede, ho voluto rinviarla, dispiace per quello, secondo me, indipendentemente da quello, perché poi quando soffri e ti abbassi, rischi sempre di prendere il gol, è che mi ha sfruttato male diverse ripartenze dove potevamo giudere, anche lui con 1-1, però dai, a essere onesti dal punto di vista del campo, non è che Brescia abbia ruvato qualcosa. Potremmo piacere di tornare sul primo anno, non è per il primo anno, mi sono perso l'attimo quindi dìmero più. Sì, sì, vabbè, comunque dai, io sono vent'anni che vivo qua, la maggior parte di loro sono amici, mi ha condiviso bei momenti, anche brutti, indipendentemente da questo mi hanno sempre, 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 sempre dimostrato affetto, quando sono tornato, quando ero qua, quando sono in giro, quindi me l'aspettavo, a essere sincero, però insomma fa sempre piacere dello stesso. La parte più difficile è la parata sul corner di Galazia e quella di Bianca? No, quella sul corner è stata un rimediare a una lettura sbagliata mia, quella di Bianca invece è stata una buona parola, anche quella parola si è mossa non benissimo.